Cosa fensi del nostro credo? È un po' vago. Se nulla è reale, in cosa possiamo credere? E se tutto è lecito, perché non seguire i desideri? Già, perché? Forse questa idea è il primo passo verso la saggezza, non la sua forma finale. Un bel cambiamento rispetto all'Edward che ho incontrato tanti anni fa.